Nei giorni scorsi c'è stato un evento speciale nell'Istituto Comprensivo Cesira Fiori a San Demetro Nevestini, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria dell'ingegner Salvatore Romano. Un evento che è il risultato di una collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Cesira Fiori e l'Associazione L'Impronta dell'Aquila. Assieme hanno creato un programma di borse di studio per premiare e incentivare gli studenti meritevoli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa, va ben oltre la semplice ricompensa accademica, rappresenta invece un impegno significativo verso la promozione dell'eccellenza scolastica e l'integrazione sociale. Con il supporto del Fondo Salvatore Romano, l'evento assicura che nessuno studente dotato venga ostacolato da barriere finanziarie, fornendo strumenti didattici essenziali gratuitamente e promuovendo l'uguaglianza delle opportunità di successo. Salvatore Romano, noto per il suo impegno nel campo dell'ingegneria e anche per il suo spirito umanitario, continua ad essere una fonte di ispirazione attraverso queste iniziative. L'evento ha voluto celebrare non solo la sua eredità, ma rafforzare anche il legame tra l'Istituto e la comunità, stabilendo un modello positivo per la cooperazione futura tra istituzioni educative e organizzazioni non profit. Le borse di studio saranno concesse a richiesta poi delle famiglie o come vacanza studio oppure per l'acquisto di attrezzature tecnologiche che possono essere utili per questi nostri ragazzi. In più c'è una terza borsa che abbiamo chiamato Fondo Salvatore Romano, che invece serve per fare degli acquisti sempre a favore dei ragazzi. Quest'anno per esempio abbiamo comprato gli strumenti musicali da dare in comodato d'uso, in quanto questo istituto nell'anno 23-24 è diventato ad indirizzo musicale. Le borse le abbiamo divise in due, quella per la primaria e in due quella della secondaria, quindi sono due ragazze della scuola primaria e due della scuola secondaria di primo grado.